Scoperto con questo gioco che chi è Shackleton, cosa ha fatto Shackleton che non sapevo prima e adesso lo so, sono molto più motivata ad approfondire tutta la vicenda anche per, così come è emerso anche un attimo da discussione, andare a capire meglio anche nella praticità di quello che sono state le cose che Shackleton ha fatto nel suo reale viaggio per trovare le metafore, le contestualizzazioni poi in quello che è una vicenda aziendale barra privata di situazioni che si possono presentare. Quindi un'esperienza positiva? Sì, per il momento sì, soprattutto no. Per il momento sì, ma siamo alla fine però. No, per il momento sì, perché poi il positivo di una situazione di del genere si può dire secondo me se poi dopo un periodo di contestualizzazione si possono riscontrare delle cose effettivamente messe in campo. Oggi posso dire positivo perché è stato divertente, stimolante partecipare al corso, l'utilità la potrò commentare magari tra un anno, sei mesi, nel termine, non si può commentare di subito. Ho capito, questa è l'aula di Skillab con gli altri partecipanti al corso, alcuni, non tutti perché non li vedo tutti, grazie del contributo. Grazie a voi. Allora ci risentiamo fra un anno per vedere se queste cose sono state utili. di te hai messo in campo, volentieri. Va bene, grazie. A tra un anno. A tra un anno.